battlefield 4 dai finalmente ce l'abbiamo tra le mani siamo qui io e johnny bus e proviamo questo battlefield 4 sto giocando io e ricordo sto giocando con la tastiera veramente perché si ecco infatti si vede grandissima subito qualcuno il controllo 0 come avevamo detto nei video precedenti il giocatore da tastiera per cui abbiamo un adattatore per xbox 360 infatti comincia a seccare aspetto qualche camperino per la prossima morte sì che è un po un gioco è bellissimo mappe vaste potenziali scambio di pare sempre dietro l'angolo che ci sono dei come ha detto anche qualche grande youtuber po di nascondino no sì questo gioco reti piazzi in un posto che volete però ma sinceramente aspettare non mi piace di stimo fratello io cerco sempre qualcuno da ammazzare chi ha fatto che schiaffi qui c'eresti un ammazzatore l'ammazzo ammazzatore sì un team di bruno rinvergare cugino di lieggi bastogli agg non ci ha messo niente sto cercando qualcuno le squadra stiamo perdendo tantissimi in questo momento e vada un po avanti per cercare come uccidere io purtroppo non guardo mai la mappa perché comunque sì sono contento del del fatto che stasera abbiamo un bocconcino dolce no dopo il primo camperino le brutte sensazioni con cod purtroppo nonostante qualcuno c'è insultato ci sono gusti valeri personali insomma non è che cambi poi così tanto insomma anche ideografico sono solo le mappe dieci volte più grandi è molto più divertente l'unica cosa effettivamente sono le armi le armi che poi portosamente l'arma principale armate contare per la pistola e basta però sì quella è un po diciamo una nota dolente però a ricordo c'è giocando col profilo di francesco chi è francesco a frankie romano e si ripetono niente e sono portato a livello 0 si e quindi niente video le armi più carcose faccio la terra dell'universo conosciuto esattamente quindi adesso veramente una prova di battersi poi guarda una grande figata di questo gioco una cosa bellissima che si gli oggetti si deteriorano esattamente si sparando a muri viene giù il famoso calcinaccio numero si che in volte cascono muri quindi la mappa si deteriora ora sono peggiori cosa che non succede su code e anche su altri fps oltre code insomma diciamo è realistica no questa cosa proiettile se ti arriva arriva se ti avrete un muro a un muro certo scalfisce il muro bella mossa johnny pass preso proprio malecostolice come dice poi altra cosa no il punto di respawn quando si muore che poi a differenza degli altri fps puoi scegliere dove ripartire secondo me è una bellissima cosa ottimo calo qualcuno un po di scambio di farlo esatta questa città quindi andava fino a torsessa mappa 56 parattano che stiamo perdendo clamorosamente le crepi vincere questa battaglia ultimo uomo e squadra e tutte le due ma ecco incontrato un plotone pratica del giallo non si è no uno si è seccato uno era uno contro 5 non 5 contro una situazione comunque dai sull'anno sto giocando ma chissi vediamo sempre che stiamo al livello 0 si abbiamo vinto 186 per cui avevi proprio uno squadrone per vincere sì ok questa ma se capo squadra nel capo non l'ho giocata ma questa mappa qui ti farà ma a ricordo anche questo gioco da circa 24 ore molto bello sta piacendo molto è lo dico proprio sincero siamo bellissima questo caso è cercato il prossimo cap perché per cui scambierò la mia farà ecco ecco non trovo sei stato addirittura promosso è soltanto livello 1 quindi perfetto ecco di perfetto l'era aria spalle e l'ho visto avanti stampina che tanto va pito non è insomma io penso che per fare belle partite bisogna insomma apparsi fino a trovare diciamo potenziamenti sempre maggiori l'unica cosa che trovo trovo negativa senso le armi iniziali fanno cagare e se le trovi anche gente veramente assurdo questo gioco insomma armi modificate anche attraverso una parete diciamo della zero è molto difficile cominciare cerchinarlo ultimo uomo in squadra cerchinarci e chiediamolo scampata una granata occhio ce l'hai qualcuno da un campere gioco di capere già tutti tutto il gioco troppo pulito il vecchio nascondino hortana per adam fine rex è seccato un altro no 20 ricaricare ti ha lasciato in mezzo a una via parola di merda ce l'hai però un po di vizio di non ricaricare ma il carico infatti c'è prima cosa che modifica il caricatore se cerchiamo di seccarlo stanza notevole è però col guasto è ancora una cosa che ha fatto infatti non si sa dovremmeno uccisione 59 attenzione c'è qualcuno alle spalle ma non me ne curo bella che sta cosa rompi il vetro vai dentro eccole 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 questo comunque è stato bravo è lui ma c'è qualche poca energia ora con questo marone io ma perché l'energia torre via l'energia si trasformerà la tua sia a pelu a via sì 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 no a ben fan sia qui chi piacevano adesso questa è un'altra mappa che c'è splipson che è sempre di prima se ne sbaglio che mi ha seccato già una volta per l'altra mappa sì ma questo è un ottimo giocatore non vedo quanto la prosto che penso sia a livello come bene andiamo un po avanti azione o diretti ma tiro alla testa da venire a ricordogli il cicchino sono e non odio gli anni tutto il contrario di me prese attenzione a grazie a questo che per mi ha fatto rinsavire anzi mi ha curato però sono 30 e niente seccato beh ma è il livello secondo me è il livello perché essendo a zero cioè noi dobbiamo usare un intero caricatore per si per dire qualcuno gli altri non so se man mano che avanzi di gioco ti danno anche aumenta e salute di ci essenzialmente non lo so non lo scopriremo solo giocando esattamente infatti il profilo misura a livello 4 quindi comunque l'anno questa è una bella cittura guarda vecchio guarda questa è se non sbaglio è la modalità squadroni squadrone no questo appigia conquista per cui è conquista la diciamo cattura no la modalità cattura non ci ho mai giocato la bandiera a squadroni qui ci sono tre zone ovviamente che bisogna cercare di conquistare io dovrebbe essere quella blu il punto rosso al momento sono ecco due stanno per cambiare la sezione alla sezione ci stanno per tornare giocato non so siete no ho visto su altri giochi fps che funziona così attenzione l'elicottero e cade l'elicottero a perché questo chi la voglia di poi giocare anche con le azioni attenzione la camionetta penso c'era quindi fuoco amico no dal punto rosso quindi sì tu mi consigliere di proverei a conquistare la bandiera anche perché sarebbe 3 a 0 praticamente visto che hai b già sono lui di soppiatto ma calo nel fossato forse se salti da un cornicione all'altro magari trovi una finestra aperta attenzione proprio vabbè fa il giro una nuova pace no vabbè che salta con un ceppo di legno al comando di conquista come negli arrivi proprio in bocca alla zona ecco qua infatti quindi devo fare adesso secondo me devi cercati camperare anche se te non piace a per la bandiera non so vengendo la bandiera di statunità che ci sono ci sono e di svuoti la barra praticamente scoppe legge perché sguota la barra diventa e dire dovrebbe tornare blu ecco perché ora devi far riempire anche stazionando nella zona vado perché a beh perché beh sì dietro ma penso non ci riuscirò perché vedo questo fatto il cecchino che ritentano intero di prendere il punto rosso comunque veramente bello cioè mappa immensa grafica tecnicamente io l'ho visto anche su ps4 fantastico è bello su 360 per cui porto ma vi ricordiamo che il doppio cd questo che non dici più per il cd online e tipo questo dare quelli di piccari bandiera neutralizzata quindi adesso il punto di torna su perché il punto è neutro sì però l'hai neutralizzata tu e di ora dovresti diciamo come si dice pare caricare il punto blu si adersare la parte che ora ciliega se ho chiesto la cina e sto camper per dire la barra blu non diventa tutta blu e con attenzione perché arrivano perché vogliono qualcun altro o no questo è un po il culo ma vabbè ancora un pisa 150 effetto adesso quindi grandissimo 336 e 183 bandiere tutte blu e quindi aspettiamo veramente e la b l'hai conquistata tu giorni base per cui grandissimo prime partite che si fanno già prima partita conquista che faccio si non sono neanche le regole la prima volta che la fronti per cui va benissimo è un buon vecchio credo che guadrone guadagnerai molti punti xp per il tuo giocatore speriamo di prendere questa cazzo di armo e il mio perché il profilo è il mio non è il gioco non ho il gioco è vero quindi mi ti rendi nel culo insomma ecco inter posto e adesso in cance quindi aspettiamo veramente la morte degli euro possibile basta abbiamo che devo fare ma io penso che aspettare dovresti morire ok perfetto ciao 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 ciao